Il gioco di Cast of the Seven Godsens Il gioco è un gioco che vuole riassumere i miei primi 30 anni di giocatore Io sono cresciuto giocando molto agli arcade anni 80 Quindi chiaramente Ghosts'n Goblins su tutti Perché come si può vedere mi sono molto ispirato Ho voluto creare proprio la mia versione di Ghosts'n Goblins Però visto che siamo comunque nel 2015 Abbiamo votato con il mio grafico Enzo Io e Vincenzo abbiamo optato per uno stile grafico Che fosse in alta risoluzione Così da rendere il gioco un pochino più moderno Un pochino più appetibile anche nel 2015 Ma in modo tale che conservassi comunque tutti i cromosomi del retro gaming Infatti il gioco è il classico gioco dove hai solo due tasti Sparro e salto Hai perdi le vite molto facilmente Un gioco dove il mastering cioè diventare molto gravi è parecchio complicato Però poi quando poi lo fai hai molta soddisfazione E cos'altro a dire Il gioco uscirà il 17 luglio su Steam E stiamo già avendo degli ultimi riscontri C'è già una demo scaricabile gratis Che sta avendo molto successo E questo è buono